...di Rigi Rosetti, tra gli altri in tribuna Giovanni Trepattoni e Pierluigi Collina. 41 secondi, cross di Cambiasso, calcio di punizione, Ibrahimovic solo nell'area piccola, colpo di testa sul fondo dello svedese. C'è anche il Milan che prova con questa manovra tutta di prima intenzione con Jan Kulowski che mette al centro per...